René Guénon, Una civiltà materiale, parte seconda. A proposito di realtà, ci vediamo condotti a indicare un altro fatto che corre il rischio di passare inosservato per molti, ma che è tuttavia degno di essere rilevato come segno dello stato d'animo di cui parliamo, e che il termine realtà, nell'uso corrente, viene riservato esclusivamente alla sola realtà sensibile. Poiché il linguaggio è l'espressione della mentalità di un'epoca e di un popolo, si deve concludere che per tutti coloro che parlano in tal guisa, quel che non cade sotto i sensi è irreale, cioè illusorio o addirittura inesistente. Può darsi che le persone in discorso non se ne rendano esattamente conto, ma non per questo una tale convinzione negativa cessa di essere presente nel loro profondo, e se esse affermano il contrario, si può essere certi che cotesta affermazione, anche se non se ne accorgono, corrisponde in esse a qualcosa di assai esteriore, quando anche non si riduca a semplici parole. Chi fosse tentato a credere che noi esageriamo, basterà, per esempio, che veda che si riducono le pretese convinzioni religiose di tanti, a poche nozioni imparate a memoria, in modo affatto scolastico e meccanico. Nozioni che essi non hanno per nulla assimilato, sulle quali anzi essi non hanno mai pensato di riflettere come che sia, che essi tengono in mente e ripetono in date occasioni, in quanto che fanno parte di un certo formalismo, di un'attitudine convenzionale, cui in fondo si riduce tutto quel che essi possono comprendere sotto il nome di religione. Noi abbiamo già parlato di questa minimizzazione della religione, della quale il verbalismo in questione rappresenta uno degli ultimi stadi. Essa spiega il fatto che, in tema di materialismo pratico, dei sedicenti credenti non la cedono per nulla ai miscredenti. Torneremo su ciò, ma prima bisogna completare le nostre considerazioni circa il carattere materialista della scienza moderna, essendo questo un problema da considerare sotto vari aspetti. Ricorderemo quindi quanto abbiamo già accennato, dicendo che le scienze moderne non hanno un carattere di conoscenza disinteressata e che perfino per coloro che credono nel loro valore speculativo, un tale valore è solo una maschera nascondente preoccupazioni affatto pratiche, usata per permetter loro di conservare l'apparenza di una falsa intellettualità. Lo stesso Cartesio, costituendo la sua fisica, pensava soprattutto a trarne una meccanica, una medicina e una morale, e col diffondersi dell'empirismo anglosassone si giunse a ben altro ancora. Del resto, quel che agli occhi del gran pubblico costituisce il prestigio della scienza, sono più o meno i soli risultati pratici che essa permette di realizzare, giacché anche in tal campo si tratta di cose che possono essere viste e toccate. Noi dicevamo che il pragmatismo rappresenta la conclusione dell'intera filosofia moderna e la sua ultima degradazione. Ma fuor dalla filosofia esiste anche, ed assai maggior tempo, un pragmatismo diffuso e asistematico, il quale sta al primo come il materialismo pratico sta al materialismo teorico e che si confonde con quel che l'uomo comune chiama buonsenso. Questo utilitarismo quasi istintivo è d'altronde inseparabile dalla tendenza materialista. Il buonsenso consiste nel non oltrepassare l'orizzonte terrestre, come pure nel non occuparsi di tutto quel che non ha un interesse pratico immediato. Soprattutto per esso soltanto il mondo sensibile è reale e non vi è conoscenza che non venga dai sensi. E per esso questa conoscenza ridotta ha inoltre valore nella sola misura in cui permette di soddisfare certi bisogni materiali è talvolta un certo sentimentalismo, giacché, diciamolo nettamente anche a costo di urtare il moralismo contemporaneo, il sentimento, in realtà, è quanto mai vicino alla materia. In tutto ciò, nessun posto per l'intelletto, a meno che esso non consenta ad asservirsi alla realizzazione di fini pratici, a non essere più che un semplice strumento subordinato alle esigenze della parte inferiore e corporale dell'individuo umano, cioè dei singoli e delle collettività, o, secondo una singolare espressione di Bergson, uno strumento per fare strumenti. In ogni sua forma, il pragmatismo è l'indifferenza totale di fronte alla verità. Così, stando le cose, l'industria non è più soltanto un'applicazione da cui la scienza in sé possa restare affatto indipendente. Essa ne diviene la ragion d'essere e la giustificazione per cui, ancora una volta, i rapporti normali risultano invertiti. Il campo in cui il mondo moderno ha impegnato tutte le sue forze, perfino quando ha preteso di fare a modo suo della scienza, in realtà non è altro che lo sviluppo dell'industria e del macchinismo. Volendo dominare per tal via la materia e piegarla ai loro fini, gli uomini, come abbiamo già detto, sono riusciti solo a farsene gli schiavi. Non solo essi hanno limitato le loro ambizioni intellettuali, quando anche qui fosse lecito usare questa parola, a un inventare e a un costruire macchine, ma han finito col divenire, essi stessi, delle macchine. Infatti, la specializzazione, così vantata da certi sociologi sotto il nome di divisione del lavoro, si impone non solo agli scienziati, ma altresì ai tecnici e agli stessi operai, onde, per questi ultimi, ogni lavoro intelligente si è reso impossibile. Ben diversi dagli artigiani di un tempo, essi non sono più che servitori delle macchine, e per dir così, fanno tutt'uno con esse. Debbono ripetere ininterrottamente, in modo affatto meccanico, certi determinati movimenti, sempre gli stessi, ed evitare la minima perdita di tempo. Ciò è almeno quel che viene desiderato da certi metodi americani, considerati come l'ultima parola del progresso, e entusiasticamente adottati dalla Russia bolscevica. Si tratta infatti di produrre il più possibile. Ci si cura poco della qualità, è solo la quantità che importa. Ancora una volta giungiamo alla stessa constatazione. La civiltà moderna è veramente una civiltà quantitativa, il che è solo un modo diverso di dire che essa è una civiltà materiale. Volendo convincersi ulteriormente di questa verità, basta rilevare la parte immensa che nell'esistenza sia dei popoli che dei singoli hanno oggi gli elementi d'ordine economico. Industria, commercio, finanza. Sembra che solo ciò conti, il che conferma il fatto già rilevato, ossia che la sola differenza sociale e sopravvissuta è quella che si basa sulla ricchezza materiale. In molti casi, sembra che la potenza della finanza domini ogni politica, che la concorrenza commerciale eserciti un'influenza preponderante sulle relazioni fra i popoli. Può darsi che ciò sia talvolta un'apparenza e che queste forze siano meno le vere cause che non semplici mezzi d'azione. Ma la scelta di tali mezzi indica a meraviglia il carattere dell'epoca a cui essi convengono. Del resto, molti nostri contemporanei sono persuasi che le condizioni economiche siano più o meno i soli fattori degli avvenimenti storici. Supponendo perfino che le cose siano andate sempre così. Si è giunti ad inventare una teoria che vuol spiegar tutto sulla base di si fatta premessa. Teoria che ha ricevuto il nome significativo di materialismo storico. E qui sia l'effetto di una delle suggestioni cui alludevamo poco fa. Suggestioni la cui azione è resa ancora più efficace dal fatto del loro corrispondere alle tendenze della mentalità generale. Per via di tale suggestione, i mezzi economici finiscono davvero col determinare quasi tutto quanto accade nel dominio sociale. Certo, la massa, in un modo o nell'altro, è stata sempre condotta ove altri ha voluto. E si potrebbe ben dire che la sua funzione storica consista soprattutto nel lasciarsi condurre, essa non rappresentando che un elemento passivo, una materia nel senso aristotelico. Ma oggi per trasportare la massa basta disporre di mezzi puramente materiali, ora nel senso corrente della parola, il che mostra chiaramente il grado di abbassamento dell'epoca nostra. In pari tempo si fa credere a questa massa che essa non è agita, che essa si muove spontaneamente e si governa da sé. E il fatto che essa ci creda permette di intravedere fino a che punto può giungere la sua mancanza di intelligenza, e da quale lo scoclima traggono la loro vita contingente le varie forme di democrazia, di socialismo demagogico e in genere di collettivismo.